Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico canale di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza bisogno di una sveglia. Mi sbilancio, quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché finalmente parleremo della next gen targata Nintendo, ma non proprio di quella che vi aspettate. Prima di tutto però prendiamoci un attimo per ringraziare Otogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video e vi invito come al solito a compiere tre semplici gesti. Supportatemi, sopportatemi ma soprattutto datemi i sordi. Bene, io ho detto tutto, in it siamo! Prima di passare alla vera star della puntata ci sono un po' di notizie da discutere al volo relative alle uscite più importanti di questo periodo, alcune molto incoraggianti, altre disastrose. Partiamo dallo scandalo Silent Hill 2 e no, non mi riferisco al fatto che tutti quanti si sono dovuti ricredere sull'effettiva qualità della produzione confezionata da Bloober, piuttosto ad un fattaccio tutto dal sapore italiano. Infatti, la patch più recente del titolo corregge un errore dell'adattamento italiano che spoilerava il finale del gioco nelle fasi iniziali dell'avventura, anzi dell'incubo. Infatti, poco dopo essersi addentrati per le strade di Silent Hill, ci si imbatte in una radio che trasmette dei messaggi incomprensibili, che però in italiano erano stati sottotitolati sin troppo bene, tanto che era possibile leggere con facilità qual era il contenuto di queste frasi, ovvero il colpo di scena finale di Silent Hill 2. La patch però dovrebbe aver corretto tutto, nel dubbio non leggete. Conoscendovi non dovrebbe essere troppo difficile. Ma vogliamo parlare un attimo delle recensioni di Metaphor Minchiazzo? C'eravamo lasciati con dei votoni provenienti dal Giappone, ma qui la situazione si fa molto seria. Metaphor Fantozzi al momento ha una media Metacritic impressionante, una delle più alte dell'anno, fattore che lo mette in prima fila tra i contendenti al GOTY 2024. Io mi aspettavo sì un bel gioco, ma non un tale entusiasmo da parte della critica, che parla proprio di Capolaporo. Troverò mai il tempo di giocare Metaphor Frattocchio? Non lo so, però ormai la tentazione è tanta. Dai su, convincetemi nei commenti. Me lo gioco o non me lo gioco? Lanciatissimo pure il nuovo picchiaduro di Dragon Ball. Infatti, nonostante Spark in Zero non sia ancora ufficialmente uscito, il gioco sta già registrando dei numeri che fanno girare la testa. Siamo infatti nel periodo di Early Access garantito dalle edizioni più costose e comunque su Steam ci sono stati picchi di oltre 91.000 giocatori connessi contemporaneamente. Per farvi capire più del doppio di quanto fatto da Fighters e chissà quanto saliranno ancora questi numeri una volta arrivata la data di uscita. A proposito, se siete interessati a Spark in Zero ma volete fare i poracci fino in fondo, vi ricordo che su Instant Gaming trovate tutte le edizioni digitali del gioco a prezzi super scontati. E poi bisogna parlare anche del più grande fallimento di questo mese, almeno per ora. E lascio aperto la possibilità che si possa fare di peggio perché il tonfo di Anti-Dawn arriva dopo quello di Concord che ingenuamente pensavamo sarebbe stato il punto più basso raggiunto da Sony per un lungo tempo a venire. E invece ci sbagliavamo, non c'è mai limita al peggio. Ed è così che questa remaster richiesta a gran voce più o meno da nessuno ha avuto un debutto abbastanza floscio su Steam. Certo, non siamo ai livelli di Concord o Sackboy, ma comunque rimaniamo ben lontani dalle altre produzioni pubblicate da PlayStation. Come se non bastasse, un'indagine portata avanti da True Trophies ha stimato che su PlayStation 5, durante il periodo di lancio, Until Dawn abbia registrato il 28,6% di giocatori in meno rispetto a Concord, che insomma è un dato che si commenta da solo. Nel reel di oggi abbiamo già indagato le cause di questo disastro. Si tratta di un gioco accolto tiepidamente dalla critica a causa di numerosi problemi tecnici e uno stile grafico che non convince. Oltre a essere un titolo venduto a prezzo pieno, nonostante la versione originale sia ancora disponibile sullo store e virtualmente indistinguibile da questa remaster. Insomma, sembra che neanche Sony ci stia provando un minimo a vendere sta roba. E così, anche un titolo sì di nicchia, ma molto amato dalla community di appassionati, subisce il triste destino già riservato a Concord. A Sony, e dai su! Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Insomma, Nintendo ha finalmente svelato la sua nuova console con un trailer a sorpresa e si tratta di una sveglia. Secondo me ci sono diversi modi in cui approcciarsi a questa notizia. In assoluto, idealmente, Alarmo è un oggetto carino. L'ennesimo accessorio che tenta un approccio non convenzionale utilizzando tecnologia non all'avanguardia. Insomma, la lezione principale che guida i prodotti Nintendo da sempre. È interessante vedere questa rilettura del concetto di sveglia che, un po' come accade con Pokémon Sleep, punta a rendere giocoso pure il momento più atroce della quotidianità di ognuno di noi, il risveglio. Quindi abbiamo questa sveglia che, grazie a dei sensori di movimento, capisce quando effettivamente l'utente si sveglia e si alza dal letto, aumentando varietà e intensità degli effetti sonori finché non ci si mette in piedi. La vera next-gen di Nintendo si manifesta in ben 5 temi tra cui scegliere. Ai quali se ne aggiungeranno altri più avanti nel tempo, un bel passo in avanti rispetto a quanto offerto da Switch. In più c'è tutto un sistema di personalizzazione e di registrazione delle statistiche che mi ha ricordato da vicino quello che era in grado di fare Walk With Me su Nintendo DS, di cui vi ho parlato recentemente. Insomma, non aspettatevi nulla di professionale, ma comunque è un qualcosa di carino e simpatico, un bello oggettino da collezione. Infatti proviamo un attimo a contestualizzarlo. Di sicuro io non sono il target di sta roba, non ne sento un'esigenza pratica, anche se sospetto che alla fine me lo comprerò e tanti faranno la stessa scelta a livello collezionistico. Certo è che, pur immaginando un target di riferimento, valla a giustificare un utilizzo pratico per una roba del genere se effettivamente costerà poi un centinaio di euro come suggerisce il prezzo in dollari. Il timing dell'annuncio poi è proprio crudele e sbagliato se visto dalla prospettiva dei fan. Conosco gente che più volte al giorno, tutti i giorni della settimana, fa refresh degli account social Nintendo nella speranza di trovare qualche notizia su Switch 2 o un potenziale Nintendo Direct e a pensarci bene forse una sveglia è proprio quello di cui avrebbero bisogno. Nintendo, pure se non è tenuta a svelare nulla della sua console, è innegabile che stia giocando tantissimo con le aspettative del suo pubblico. Perché svelare ora un affarino del genere? Secondo me, se fosse stato messo all'interno di un contesto celebrativo un po' come fatto per i Game & Watch a tema Mario e Zelda, Alarmo sarebbe stato accolto con molta più tranquillità da parte dei fan. E infine dobbiamo vedere Alarmo come un annuncio che ci torna utile per rileggere gli ultimi rumor sul misterioso device CLO001 di cui era stato scoperto il brevetto. I sensori di movimento servono a registrare i movimenti durante il sonno e non sono stati implementati in un qualche tipo di telecamera USB-C da attaccare a Switch 2 per avere un miglioramento dei motion control. Quella la possiamo considerare una pista morta e sepolta, anche se un approccio modulare alla console, in grado di cambiare configurazione in base a come viene sfruttata la seconda USB-C, rimane ancora molto intrigante. Un triste pensiero di gommiato va agli eroi che si sono arrovellati su quei brevetti in parte tenuti segreti tirando fuori le teorie più fantasiose e anche dei modelli 3D. I vostri inutili sforzi non saranno dimenticati, almeno per la prossima settimana. Insomma siamo di nuovo al punto di partenza. La console sarà svelata prima della fine dell'anno oppure Nintendo si concentrerà esclusivamente su quello che abbiamo da qui fino a gennaio, lasciando spazio unicamente a Switch? La parola sta a voi, mi raccomando, solo commenti indignati! E questo poracci è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta di darvi appuntamento a domani per una live unboxing ricchissima sul canale Twitch. Non mancate perché tirerò fuori delle chicche assurde. Voi comunque fate i bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poroclock, Michele Alarmo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Oppure, questa è la peggiore delle ipotesi, una sorta di radiosveglia, di clock device, di sveglia appunto che tiene traccia di parametri come la salute, anche i cicli di sonno eccetera eccetera quindi sarebbe una sorta di espansione di Pokémon Sleep. Tottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottott